Ogni giorno, sempre più proprietari di aziende in tutto il mondo prendono la decisione intelligente di passare all'energia solare. Le soluzioni che massimizzano la produzione di energia pulita e la sicurezza del sistema sono in genere in cima alla loro lista. Ma quando si parla di sicurezza solare, sai davvero come ottenere il massimo? Scegliendo SolarEdge, ottieni un sistema che non scende a compromessi sulla sicurezza dei tuoi dipendenti, edifici e investimenti. Fin dal primo giorno, gli ottimizzatori di potenza di SolarEdge consentono di monitorare le prestazioni e i livelli di sicurezza dell'intero sistema, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fino a livello dei moduli. Tracciando lo stato di salute del sistema in tempo reale con la piattaforma di monitoraggio, il personale addetto alla manutenzione può individuare e risolvere rapidamente qualsiasi problema, sia da remoto che in loco. In caso di interruzione della rete o di condizioni meteorologiche estreme, l'esclusiva funzione SafeDC di SolarEdge e la funzionalità di spegnimento rapido riducono automaticamente l'alta tensione dei moduli a livelli di sicurezza, garantendo un intervento tempestivo in un ambiente di lavoro sicuro. Proteggi ulteriormente il tuo sistema con le funzionalità avanzate di rilevamento e prevenzione degli archi elettrici, integrate in oltre 2 milioni e mezzo di sistemi SolarEdge installati in tutto il mondo. Inoltre viene monitorato proattivamente lo stato del cablaggio del sistema per individuare eventuali cause di surriscaldamento o archi elettrici, rendendo il tuo impianto solare ancora più sicuro. Tutte queste caratteristiche di sicurezza non solo soddisfano i più severi standard industriali e requisiti assicurativi, ma li superano addirittura. Quando si tratta della sicurezza delle persone, degli edifici e del tuo investimento fotovoltaico a lungo termine, c'è solo una scelta. Be smart. Be safe. Choose SolarEdge.